Sì. Vuoi restare qua? E perché non è vero? Passi. Ma oggi sta pure Rita con noi, oi? C'è una mano a prendere il Mr. Jones. Mi scelgo, Giro. Oh, oh! Il filo! Rita! Mantenetevi i figli questo. Perché chi tocca i figli una roba se l'ha dappare con me. Ebbè, uno può portare un grado al cadina da bastare per qualche guai. Che ha migliore che non ha l'estero. Tutti senti. L'hanno picchiata a Sandra davanti alla bambina. E ve lo sciocco con una palladicchio. Ma Rita che colpa ne ha? Suo padre adesso è in galera. Noi dobbiamo proteggere i bambini. E lì alla Marseria non ci sono più le condizioni di sicurezza. La responsabilità me la assumo io. Guarda che quella da qua dentro se ne deve andare. Fuori di qui per lei c'è solo un mondo da cui sta cercando di scappare. Questa è gente che capisce solo le mani dei forti, Giovanni. Ma voi state sempre da partire malamente. È logico. Noi non facciamo differenze fra di loro. Questo è un posto per i bambini. Per tutti i bambini. Per tutti i bambini. Per tutti i bambini. Per tutti i bambini. Posto i bambini.